Quale sarà la sfida più impegnativa per il governo? Riuscirà a superare i conflitti interni e le tensioni con l'Europa? E sulle tante questioni ancora aperte nel Paese, dal rischio e recessione, le grandi opere, l'accoglienza dei migranti, cosa decideranno la Lega e i 5 Stelle e l'opposizione alle prese con le primarie del Partito Democratico e con il ritorno in campo di Silvio Berlusconi? Sarà capace di elaborare un progetto davvero alternativo a quello di questo esecutivo? Noi continueremo a cercare di capirlo con Carta Bianca, ogni martedì alle 21.20 su Rai3, vi aspetto! Condotto da Bianca Berlinguer, Carta Bianca, martedì alle 21.20, Rai3.